un saluto a tutti sono vincenzo trossetti e questo è un veloce video giusto per effettuare l'estrazione del vincitore al contest che avevo fatto per festeggiare con voi i 1000 iscritti un po ci sono rimasto un po male perché sono stati in pochi a commentare quindi non c'è stata molta partecipazione da parte di tutti certo non pretendevo che fossero i mille a commentare però comunque magari un po più di gente partecipe al canale non mi sarebbe guastata diciamo tutto però a favore naturalmente dei pochi che hanno che hanno risposto fedelissimi e quindi andiamo subito a vedere quanti sono allora partiamo dall'alto siamo 1 2 text no perché l'ultimo 2 questo no 3 4 5 6 e 7 quindi solo solo in 7 ok torniamo su random.org con i nostri potenti mezzi inseriamo 7 vi ricordo conto dal basso dal basso verso l'alto 7 quindi l'ultimo che ha commentato quindi sono 1 2 3 4 5 6 e 7 ok cartaland sei il fortunato vincitore della key di deadspace 3 riscattabile vi ricordo su origin e riceverai la key come messaggio privato su youtube quindi controlla la posta qualsiasi problema naturalmente mi puoi contattare in privato cerchiamo di risolverli ok per tutti gli altri mi dispiace vi ringrazio comunque che avete partecipato e non preoccupatevi perché ci saranno sicuramente degli altri contest dove potete partecipare e chissà riuscire finalmente a vincere ok io per questo appuntamento è tutto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao